Giada, una dieta particolare immagino la tua, però non... Sì, io mangio un po' di tutto, ogni tanto ecco anche io sgarro perché... però non sono una ecco fissata, ecco, riesco a mangiare di tutto, proteine, carboidrati, verdure, tanta verdura e frutta soprattutto, sì sì sì. E poi insomma l'Italia ragazzi, è la patria del buon cibo. Intanto...